Lunedì 26 marzo, amici di Unica Channel, buongiorno e bentrovati all'edizione flash del nostro WebTG. Iniziamo con la cronaca. Stamattina, alle primissime ore del giorno, sono stati appiccati incendi ad alcuni treni situati tra le stazioni di Rogoreto e Lambrate in provincia di Milano. Accanto agli apparati elettrici sono state ritrovate scritte notab ed una bottiglia di benzina. L'attentato è stato scoperto dalla polizia ferroviaria. In queste ore la situazione è ritornata alla normalità. E saranno celebrati oggi alle 18, presso la chiesa di Santa Maria degli Angeli di Roma, i funerali di Stato per il sergente Michele Silvestri, caduto sabato scorso durante una missione militare in Afghanistan. E intanto restano gravi le condizioni del primo caporal maggiore Monica Graziana Contraffatto, che fu coinvolta nello stesso attentato. La riforma del lavoro. Il premier Monti in viaggio verso la Corea del Sud dichiara sarà una manovra equa ed incisiva. La CGL però avverte il premier Monti Ciripensi ed annuncia lo sciopero generale a maggio. E intanto anche la maggioranza che sostiene il governo tecnico di Mario Monti traballa ora sul tema del lavoro. È scontro PDL e PD sull'articolo 18 o per quello sui licenziamenti. Per Ferdinando Casini il leader dell'Udc avverte così rischiamo una nuova crisi di governo. E andiamo all'estero. Un terremoto di magnituto 7.2 della scala Richter ha colpito questa mattina la zona centrale del Cile. Scene di panico si sono verificate a Santiago, la capitale del paese. Fortunatamente non si contano vittime, vige per ora lo stato di allerta preventiva. E concludiamo con lo sport, calcio. La Juve sempre più imbattuta in campionato. Sconfigge nel posticipo della domenica sera l'Inter per 2-0 grazie alle reti di Caseres e del Piero. Sciupa tutto invece il Napoli che in casa, in vantaggio per 2-0, si fa rimontare nel finale dal Catania. Bene la Lazio, chi ha la meglio sul Cagliari grazie ad una rete di Akite arrivata nel finale della partita. Per quanto riguarda la Formula 1, prima vittoria del Mondiale 2012 per la Ferrari. Sul circuito di Sepang in Malesia lo spagnolo Alonso taglia per primo il traguardo sotto la pioggia abbattente e al termine di una gara condizionata e caratterizzata da lagamenti di pista e incidenti. Era questa l'ultima notizia, noi ci ritroviamo come sempre a partire dalle 15.30 con l'edizione completa del nostro WebTG. A tutti voi grazie dell'attenzione e buon inizio di settimana.